partiti in vantaggio Starry Flag poi c'è lo scarto di Saki Martino Starry Flag si ritrova in vantaggio davanti al Jar e Ramson Hop mentre Saki Martino si ritrova in coda lungo la curva Starry Flag prosegue in vantaggio davanti ad Aljar quindi Saki Martino con all'esterno Ramson Hop Cavalli ora all'ingresso in retta d'arrivo con Starry Flag allo steccato Aljar al suo esterno Saki Martino in cerca di un varco interno mentre a centro pista cerca di ingambarsi Ramson Hop sta allungando Starry Flag nei confronti di Aljar più a centro pista Ramson Hop siamo a 250 dal palo con in vantaggio Starry Flag sotto l'attacco deciso di Aljar nel tratto finale Starry Flag all'interno Aljar a largo c'è lotta tra i due nel finale Starry Flag subisce l'attacco di Aljar ma si difende Starry Flag Aljar Ramson Hop al terzo posto quindi Saki Martino rivediamo le immagini della quarta corsa in programma al bersaglio del numero 6 Starry Flag Manuel Porquinsella ultimo cavallo del campo estrema outsider per i colori comunque della squadra a Kimax e al secondo posto il numero 1 di Aljar quindi 6-1-3 l'arrivo ufficioso della quarta corsa di Napoli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti